Il processo migratorio provoca dei ricambi. In Italia abbiamo 5 milioni e 200 mila stranieri e abbiamo 1 milione e 500 o 600 mila persone che non sono stranieri, perché sono italiani, ma che erano stranieri. Quindi in un paese di 58 milioni e 800 mila abitanti abbiamo qualcosa come circa 7 milioni di persone che hanno un background, diciamo così, da stranieri. Quindi è un processo naturale, è un processo che è avvenuto in passato. Una volta eravamo noi a portare gli italiani fuori, ora sono altri che arrivano. si andrà avanti in questa direzione, cioè non c'è nulla di problematico. Quello che può diventare problematico è l'eccessiva accelerazione del processo. Come tutte le cose in demografia, il cambiamento c'è, c'è sempre stato e ci sarà sempre. Diventa problematico nel momento in cui viene accentuato e non viene metabolizzato. Non si dà il tempo di rimettere in ordine gli equilibri in relazione all'assorbimento di quelli che sono gli effetti del cambiamento. Diciamo che dovrebbero essere, a mio parere, ma questa diventa una mia opinione personale, di governo del fenomeno. Cioè il concetto è non subire la migrazione, ma governarla. Magari anche sarebbe interessante, se è il discorso del mercato del lavoro, potrebbe essere interessante un processo di formazione nei paesi di provenienza. Cioè, per capirci, il lavoratore che viene qui e sa già, non dico benissimo, a parlare italiano è facile che l'inserimento, l'integrazione che è avvenuta e sta avvenendo. Non dimentichiamo che noi abbiamo fatto tante chiacchiere, però siamo un paese che i 7 milioni di persone ce li ha qui e non è successo nulla di straordinario, salvo qualche imbecille. Per cui voglio dire, non è che non siamo razzisti, non lo siamo, non lo saremo, io penso, mai. Lo abbiamo dimostrato, quindi al di là di qualche caso molto sporadico, ma comunque marginale, abbiamo dimostrato di non esserlo, possiamo continuare lungo questa direzione, dobbiamo però, se possibile, fare in modo che il fenomeno migratorio venga governato e indirizzato in modo che sia anche funzionale nell'interesse stesso di coloro che arrivano.